Lorenzo Amoruso contro Soleil sorge dopo la fine dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Il compagno di Manila Nazzaro si è concentrato sulla discussione che l'italo-americana ha avuto con Gian Maria Antinolfi, suo ex fidanzato. «Volevo solo parlare di Soleil. Pensavo fosse una persona intelligente, ma ieri mi è decaduta in una maniera esagerata. Credo che debba iniziare a capire che cos'è l'umiltà e la semplicità». E poi continua. «Parlare così male di tante persone che vanno all'outlet, perché lo facciamo tutti diciamo la verità, o che mangiano pasta e piselli, io non la sto offendendo, ma ha bisogno di fare un bagno di umiltà, perché la vita non è quella sui social e lei non l'ha capito a 27 anni». «Volevo solo parlare di Soleil e del Grande fratello ieri sera? Io non so che opinioni vi siete fatte, ma pensavo Soleil fosse una persona intelligente, ieri mi è decaduta in una maniera esagerata. Credo che sia una persona davvero che debba iniziare a capire che cos'è l'umiltà, la semplicità, perché parlare così male di tante milioni di persone che vanno all'outlet e lo facciamo in tantissimi, non diciamo stupidaggini, o che mangiamo pasta e b***a, quindi non so come la pizzi, non sto offendendo Soleil, dico soltanto che ha veramente bisogno di un bel bagno di umiltà».